Siamo venuti rilassati. Eusebio, pensa che figura che fai se ce l'hai più alta. No, io la tocco, perché sono della Roma, l'ho rammassa. No, braccio destro, bracciala. Allora, cominciamo a dire, qual è una pressione, diciamo, normale? Assolutamente sotto 130, 80. Sotto 130, 80. Su, normale. 135, 85. No, non vai per regno. 130, 140, leggera. Guarda, guarda, guarda su, 145. Sopra 140. Sotto 140, 90, assoluto. Se viene alta d'errore. Se viene alta d'errore. Se viene alta d'errore. Se viene alta d'errore. Errore, errore. E' il cuore che batte. Quella è la parte giallo rosso. Anche a lei mi stiamo battendo. Eh, abbiamo sbagliato. ero. Eh, è impast subito. Ci fa la storia ad andare la recommenderait.